Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube, video di oggi dedicato all'unboxing di questo set di carte di Final Fantasy, dedicato appunto a Final Fantasy VII Avalanche verso Sheer. Sì, in particolar modo alla versione del remake, infatti qui abbiamo tutti i modelli presi da questo gioco e non dall'originale. E niente che dire, vabbè, io sono una persona semplice, vedo Rufus e acquisto, però no, Marco comunque c'è da dire che colleziona comunque ai diversi mazzi, e quindi, insomma è anche abbastanza raro ultimamente trovarli, quindi uno non si è lasciato sfuggire l'occasione. E niente, andiamo un po' ad aprire e vedere i mazzi nel dettaglio. Dovrebbero essere anche abbastanza semplici questi dati, se non mi ricordo male. Sì. Sì, direi, attenzione c'è lo scotch. No, c'è lo scotch. E io qua stavo già facendo danni. No, 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 ero... Ah, ok, a posto. Anche di qua? Anche di là, ok. Vai, a posto. Allora, vediamo un po'. Sì, che si aprivano anche, mi ricordo appunto, abbastanza bene, c'era questa plastichina da togliere. Allora, partiamo subito. Oh, vedo già una cosa bellissima. La carta di Tseng. Esatto. Allora, qua abbiamo, e beh, giustamente io ad esempio non ho mai avuto, insomma, modo di giocarci, magari poi potremmo fare qualche partita, però almeno uno introduce il gioco. Sì, c'è un po' tutte le spiegazioni su come si fa a giocare. Giustamente. Ok. E qua, vediamo un po'. Ti introduce anche un po' al mondo, perché qui, vediamo, svolgimento della partita. Ok, altre regole. Va bene. Forse dall'altra parte magari c'è il... Ah no, pensavo ci fosse il gioco. Guida introduttiva, come leggere una carta. Va bene, va bene. Ok. Allora, passiamo all'unboxing. Vero e proprio. Allora, forbici. No, però penso che ci sia di lato, vedete? Ah. Eh, sì, era proprio fatta apposta. Ok, ok. Da qualche parte ci dovrebbe essere... Vai, te lo lascio a te. Aspetta. Forse qui. Allora, rieccoci. Allora, mentre io mostro queste, tu apri anche l'altro. Allora, vabbè, giustamente ci saranno, insomma, dei doppioni perché... Sì, sono mazzi, diciamo, per iniziare subito a giocare, a fare le partite, via. Allora, c'è da dire che alcune si sono incollate... Aspetta, eh. Col tempo. Sì. Beh, certo, non è uscito ora il mazzo, quindi... Ok, qua abbiamo, vabbè, Cloud, Wedge. Poi, vabbè, giustamente, un po' come il discorso di altri giochi, come Pokémon, giustamente ci sono i doppioni, se uno vuole pescare una determinata carta. Ok, poi abbiamo, allora, Jesse, Barrett. Ok, Pix. È molto bello. Attenzione, qua dicono Final Fantasy VII Remake, ma c'è Vincent che, appunto, in questo gioco non compare, compare da Rebirth. Infatti, questo, penso che sia, o di Even Children, o di Josh Cerberus, però... Penso che ti dice, anche qua in basso, da dove viene, VII, ma non c'è uno, ma tipo le altre, Final Fantasy II, e così via. Allora, abbiamo Minatore, quindi, comunque, ci sono anche altri Final Fantasy... Sì, non ci sono solo dal VII. Ok. Sì, sì. Titano. Allora, aspetta. Ah, tifa. Però, sì, io torno a ripetere, qui, però, scrivo, non fare la Final Fantasy VII Remake, però... Ci sono altri... Appunto, questo è tratto, comunque, dal gioco, dagli artwork originali, non hanno preso l'artwork. Quindi, ecco, magari mi aspettavo una cosa un po' più omogenea, così, sono presi... Infatti, anche qui c'è Zack. Da, insomma, Crisis Core, infatti, si vede Angel. Ok, io qua faccio scorrere un po'... Comunque, tanta roba che è la versione italiana. Ah, sì, sì, no, io non mi aspettavo che... Magari altre... Bah, altre volte si sono trovati in inglese... Sì, comunque, tanta roba, anche a buon prezzo. Eccoci qua, allora. Vediamo un po'. Oh, bene, io sono già contenta così, perché, insomma, loro sono i miei preferiti. Poi, adoro in generale anche i Tarks. Ok, allora, almeno loro hanno preso i modelli giusti. Vediamo un po' se continuiamo... Ah, ecco, dai, carino che c'è anche Elena, insomma... Ecco, magari qui hanno tutti i modelli, mentre lei è in versione civile, ma giustamente nel remake non c'era ancora, quindi va bene. Ah, abbiamo di nuovo Rude. Attenzione, doppione. Ah, Reno, però questa volta presi da Even Children. Presidente Sheer, ok. Vediamo un po' se c'è... Mago Nero. Ramu. Sì, poi ci ha messo così, nemici, perché Kadhaj, insomma, non è che faccia parte della Shinra, però... Ok, vediamo... Allora io, scusate, ma mi aspetterei anche Sefirot a questo punto, però... Eh no, però ci hanno messo loro. Ah, beh. Sì, diciamo che... Allora, questi mazzi partano all'inizio con un, diciamo, a tema, e poi mettono... Vabbè, sì, per carità, questo può essere indicato un mazzo dei cattivi, quindi ci sta alla fin fine, però... Ecco, mi aspettavo qualcosa... Poi è chiaro, cioè, non è che... Oddio, beh, in realtà anche qui, per dire, uno dice, non è che magari all'inizio del set magari non ci sono ancora tutti i personaggi, però per dire, per la Shinra potevano metterci anche Ojo, per dire, invece non c'è... Insomma, vabbè, però alla fin fine comunque sono carini, insomma. Sì, quindi ragazzi, questo era il nostro video unboxing di questo set dedicato a Final Fantasy VII Remake, Avalanche vs Shirra. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate o condividete, se volete iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!